tutto parto da qui che giorno è oggi attenzione è 17 marzo giovedì e oggi si laurea Ilaria Marani da oggi provo una nuova tecnica di video ho deciso di chiamarla hyper speed video come funziona funziona così ciao non senti quello che diciamo vero vecchio sto malissimo e che cos'è eppi laurearsi è molto difficile non sono scarpe larghe questo è il gruppo senza di me vai Ilario stai facendo video non ci poteva iniziare a mangiare ciao amici a casa ciao amici mi passi anche sotto la mano perchè si vuole hai 5 secondi merda mi sto proprio d'olio è presto uscito un giorno di settembre di molti anni fa e quindi qui si conclude il video dei festeggiamenti grazie per la festa e per la torta grazie a tutti grazie a tutti